In estrema sintesi stiamo resistendo, nel senso che sulla difesa civica è abbastanza innegabile che negli ultimi anni la scelta anche per livello centrale sia disinvestito, oggi i comuni sono sprovvisti di questa figura del difensore civico, la regge incentiva l'utilizzo della provincia come un stato di coordinamento, ma il destino delle province è a sua volta noto a tutti e quindi abbiamo trasformato e abbiamo, secondo me efficacemente grazie all'azione dell'Avvocato Lulli interpretato la difesa civica non tanto come persone che si rivolgono per un problema con la pubblica amministrazione regione Emilia Romagna, ma con la pubblica amministrazione del territorio regionale, questo lo facciamo attraverso lo strumento della convenzione con gli enti locali che dicono non abbiamo un difensore civico nostro, ma ci avvaliamo, del servizio di difesa civica della regione Emilia Romagna e lo dirà il difensore civico con l'azione dei dati più puntuali di quanto io non possa fare, la dimostrazione è sul trend di crescita delle persone che si rivolgono a lui, al nostro servizio con più del raddoppio mi pare delle istanze che ci vengono rivolte negli ultimi anni. Il punto fondamentale è fornire al cittadino una presenza effettuale della pubblica amministrazione soprattutto quando i problemi riguardano il rapporto con essi, sarebbe il paradosso che chi rappresenta i cittadini lo lasciasse sguarnito di fronte al problema con le istituzioni che devono rappresentare.